Ti non credi? Dicesse, Daniele fai business solo in rendita, è certo. Se devo pensare, quei pochi che non sono ancora in rendita, sto cercando di riorganizzarli affinché diventino totalmente automatici. Non è facile, però di base se una cosa non è automatica non la faccio. Quindi io posso anche lavorare mesi per fare qualcosa, come un libro, no? Se tu scrivi un libro, puoi metterci mesi per scrivere un libro, ma poi non lo tocchi più. Se mi dicessero di fare un libro che devi aggiornare ogni mese, non lo farei mai. Capisci? Quindi non esiste. Faresti un business insieme? Dipende. Allora ragazzi, se aveste delle idee valide che si possono creare online, che ragionino in rendita e non in lavoro, proponetele. Ma devono essere valide, non devono essere ipotetiche. Cioè, mi dovete mandare un business plan, non un'idea canalizzata da un maestro asceso. Cioè, capiamoci. Quindi non mi serve qualcosa di astratto dicendo, ma sai Daniele, ho pensato che si potrebbe fare un, che ne so, una roba con intelligenza artificiale che fa questo sequestrale. Ok, sei capace a farlo? No. E allora che mo' dici a fa? Quindi se avete un business plan, avete già tutto e state cercando di partner, parliamone. Parliamone. O vi manca qualcosa di partner, parliamone. Se avete soltanto idee confuse, no. Quello anche no. Tancredi dice, volevo dire, fai business solo online? Sì, tendenzialmente sì. A parte il libro, ma una cosa fatta tanti anni fa, ma che non rende praticamente niente. Per il resto, cioè, rende pochissimo. Per il resto, sì, tutto online. Vivo dall'altra parte del mondo, cosa vuoi che faccio? Cioè, certo mi metto a fare i pizze. A parte che, tra l'altro, non è che chissà che cosa faccio. Cioè, sinceramente, i business anche lì sono un po' una rottura di scatole, per cui preferisco più investimenti che vadano da soli, più che business. Cioè, il business è già una roba su cui devi fare qualcosa. Gli investimenti, invece, è qualcosa dove fanno gli altri per te. Cioè, se fai lavorare il denaro, fai prima. Ricordatevi che alla base, è vero che alla base devi iniziare a fare denaro, quindi devi fare dei business che ti genera denaro e poi il denaro lo fai lavorare per te. Fondamentale. C'è, su Anaera, uno tra i corsi più venduti è quello per creare rendite dal patrimonio. Cioè, il denaro farlo rendere. E, inoltre, sto testando degli altri metodi, delle altre piattaforme interessanti, che tra qualche mese, dopo che le avrò testate, e se i test andranno a buon fine, ve ne parlerò. Ripeto, come al solito, non saranno robe che... Cioè, lì farò dei corsi che costeranno un po', perché per testarle ci sto investendo discretamente e non so quali andranno bene e quali andranno persi. Quindi, per darvi qualcosa di buono a voi, devo evitarvi di farveli perdere, quindi devo perdere io. Per dire, questo funziona e questo no, purtroppo bisogna metterceli. Grazie a tutti.